Occasione ghiotta per il Gela per tentare la fuga in vetta al girone A di eccellenza. Domani il team, allenato da Toto Bruculeri, sarà di scena a Cammarata nell'Agrigentino, un vero e proprio testa coda. Il Camarat, infatti, occupa le ultime posizioni della classifica a quota 17, dunque in lotta per la sopravvivenza. I Biancazzurri, dopo aver conquistato domenica scorsa il comando della creditoria, in condominio con la San Cataldese, non vogliono e non devono più fermarsi. Ecco perché sottolineiamo che quella di domani è una partita da vincere a tutti i costi. Non sarà facile, è giusto ribadirlo, perché gli agrigentini faranno il tutto per tutto per ribaltare il pronostico. Troppo evidente il divario tra le due compagini. Ma attenzione, sono proprio queste le partite che nascondono numerose insidie. Ecco perché l'allenatore gelese in settimana ha predicato umiltà e concentrazione, ribadendo che è importante mantenere il giusto equilibrio contro queste squadre che giocano per salvarsi. Per la gara di domani, fischio di inizio previsto per le 15, saranno assenti Bonaffini, squalificato ed Alma, infortunato. Dovrebbero essere sostituiti da Treppiedi e Caci. Anche a Camarata saranno presenti i tifosi biancazzurri, finora non hanno mai fatto mancare il loro apporto. Da domani comincia un nuovo campionato per il Gela, altre 11 partite e poi si tireranno le somme. Ci sono stati, è chiaro, dei momenti difficili, così come prevedibile in un campionato assai logrante e duro, ma la truppa biancazzurra si è subito ripresa. Ora è in testa e ci vuole rimanere fino al termine della stagione regolare. Adesso viene il bello, non bisognerà mollare di un solo centimetro, una vera e propria guerra di nervi e psicologica. La partita di domani sarà diretta da Davide Santorossa di Pordenone, assistito da Picciola Raspanti di Catania.